Sì, oggi noi non possiamo permetterci assolutamente di consumare nelle nostre case il latte che è il prodotto più utilizzato dalle nostre famiglie e non sapere da dove proviene. Quindi chiediamo assolutamente che ci sia chiarezza nell'etichettatura e che quindi anche nel latte a lunga conservazione sia scritto il luogo di mungitura perché vogliamo sapere e io voglio sapere se il latte che acquisto proviene dal nostro territorio o se viene importato da altri paesi così come è giusto che ogni prodotto derivante dal latte, quindi mi riferisco a tutti i formaggi, latticini e mozzarella, abbiano scritto nell'etichetta il luogo di provenienza. È una questione di giustizia perché molto spesso vediamo prodotti che sembrano italiani, in realtà non sono prodotti fatti con latte italiano così come vediamo purtroppo che aziende importanti di marchio italiano acquistate da multinazionali straniere usano il marchio italiano ma fanno prodotti con latte che proviene da altri paesi a un costo più basso e quindi mettendo fuori mercato anche le nostre aziende locali. La prima è una lotta alla contraffazione, la giunta regionale deve muoversi sulle autorità competenti perché si verifichi quando è scritto qualcosa di sbagliato. La seconda è la pubblicità ingannevole, noi dobbiamo parlare ai consumatori, dire loro di leggere le etichette, di essere consapevoli che si deve andare a vedere che un nome che potrebbe avere un nome di un territorio magari non è esattamente quello. La terza è che per cambiare le abitudini, quindi lavorando sulle giovani generazioni, noi otteneremo il grande risultato di rendere consapevole il cittadino consumatore ma chiederemo al Parlamento e al Governo di rendere obbligatoria la scrittura nelle etichette.